TV Prato diventa regionale. E dal 27 maggio passa sul canale 75 del Digitale. Rinnovato il contratto nazionale degli adili artigiani, le novità contenute nel nuovo accordo. Villa Medicia di Poggio a Caiano e i cittadini non è valorizzata a sufficienza. Il sindaco scrive al ministro. Piazza Duomo si trasforma in una discoteca all'evento DJ Time Adventure al Festival Settembre Prato e Spettacolo. E una buona giornata a tutti voi dalla redazione di TV Prato. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro Tg del giorno. In primo piano una notizia che riguarda la nostra emittente. Perché dal 27 maggio TV Prato diventa regionale e sarà visibile in tutta la Toscana. L'importante novità, unita al cambio di canale dal 74 al 75, avverrà in concomitanza con il passaggio al nuovo digitale terrestre. La notizia è stata data ieri sera intorno alle 9 dal direttore di TV Prato Gianni Rossi. È una grande rivoluzione per la nostra TV. Un grande passo in avanti perché raggiungiamo finalmente, grazie alla posizione utile che abbiamo ottenuto nella graduatoria del digitale, la copertura regionale. TV Prato, infatti, Arianna, come i nostri telespettatori sanno, per 44 anni ha trasmesso nel territorio pratese, in quello pistoiese e in quello fiorentino. Ma con questo switch off, in realtà, tutto il territorio regionale toscano sarà raggiunto dal segnale di TV Prato che, appunto, come anticipavi, cambierà il numero del canale del telecomando passando dal 74 al 75. Un passo in avanti, dunque, davvero per la nostra emittente. Quando e come avverrà questo passaggio, appunto, sarà diverso anche all'interno dei comuni della nostra provincia? Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un calendario diversificato per province. Il nostro appennino, la nostra valle del Bisenzio, farà questo passaggio già il 27 di maggio, quindi tra pochissimi giorni, e invece la piana il primo di giugno. Ritornando sul canale 75, appunto, come dicevamo prima, quindi i telespettatori ci troveranno da fine maggio, inizio giugno, su questo nuovo canale, quindi come dovranno fare anche per trovarci? Tutte le emittenti locali cambiano i numeri. A TV Prato, appunto, è stato assegnato il 75. Nessuna difficoltà particolare, è un numero in più rispetto al 74 a cui siamo abituati. Si tratta di digitare, appunto, come sempre, il numero, in questo caso una numerazione nuova sul telecomando. Sicuramente dal 27 di maggio ai primi giorni di giugno ci sarà bisogno di risintonizzare più volte la televisione. Se la risintonizzazione non fosse sufficiente per vedere non soltanto TV Prato, ma tutti gli altri canali, a quel punto sarà necessario contattare un antennista di fiducia oppure l'amministratore di condominio, perché in alcuni casi ci sarà forse la necessità di aggiustare oppure sostituire anche l'antenna. Ovviamente, se la televisione è piuttosto datata, in quel caso bisognerà o sostituirla o aggiungere un decoder. Ebbene, vediamo adesso l'andamento della pandemia. Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, in provincia di Prato non si registrano decessi causati dal Covid. A livello regionale, invece, le vittime sono 7 e 1.849 nuovi casi, di cui 107 nel Pratese. Il lieve aumento è il tasso di positività, che si attesta a 12,9%. Lieve diminuzione, invece, dei ricoveri nelle aree Covid degli ospedali toscani. Oggi i pazienti sono 401, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 15 in terapia intensiva, 1 in più di ieri. E parliamo adesso, invece, di imprese. È rinnovato il contratto nazionale degli edili artigiani. L'accordo prevede molte novità, tra le quali la possibilità per le imprese di variare gli orari di lavoro e, soprattutto, l'introduzione della figura del mastro formatore artigiano. Ci sono voluti più di otto mesi di trattative, ma alla fine il nuovo contratto nazionale edili del comparto artigiano contiene aspetti innovativi e, per certi versi, storici. Se da un lato premia e valorizza il lavoro dei dipendenti, dall'altro dà valore alla figura dell'artigiano, inteso come portatore di esperienze e di saper fare. Sul fronte salariale il nuovo contratto prevede un aumento mensile di 92 euro e un riconoscimento economico figlio dell'aumento di lavoro che le imprese edili hanno avuto per effetto dei vari bonus e che le parti datoriali hanno voluto condividere con i propri lavoratori. Uno degli aspetti più innovativi è legato alla figura del mastro formatore artigiano che permette agli artigiani in possesso di determinati requisiti, tra i quali 15 anni di attività e iscrizione all'alba artigiano o l'assenza di condanne per infortuni sul lavoro all'interno della propria impresa, di poter fare formazione ai propri dipendenti. È stata istituita una figura fondamentale, si chiama mastro formatore artigiano, dove l'imprenditore artigiano, qualora possegga determinati requisiti, e non sono requisiti da poco, può all'interno della propria azienda eseguire la formazione pratica, obbligatoria e professionalizzante e questa formazione qui è riconosciuta dagli enti bilaterali e soprattutto dagli organi di controllo. Questo è un aspetto estremamente innovativo. Il nuovo contratto prevede inoltre sgravi contributivi per le imprese che non fanno sotto inquadramento. Altra novità significativa è la possibilità per le imprese di poter variare gli orari di lavoro a seconda delle esigenze in determinate situazioni, come ad esempio gli interventi sugli edifici scolastici. E torniamo invece adesso ad occuparci della scarsa fruibilità della Villa Medicia di Poggio a Caiano, problema sollevato dalla nostra emittente. Abbiamo raccolto il parere dei poggesi anche in merito alla proposta del Comune di gestire insieme al Ministero della Cultura la Villa Patrimonio Unesco. Anche per gli ospiti o comunque per chi vuole venire a visitarla diventa dura perché non sai quando, a che ora, quando è aperto, nel senso o comunque c'è troppo poco orari per poter visitare e godersi di questa bellezza che ci abbiamo. Torna a far discutere il problema degli orari di apertura non sufficienti e della penuria di personale della Villa Medicia di Poggio a Caiano. Nella trasmissione di TV Prato prima di tutto, il Presidente della Provincia di Prato e Sindaco del Comune di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, ha lanciato la proposta di una collaborazione tra Direzione Regionale, Musee della Toscana e Comune per sopperire di servizi e valorizzare un'importante risorsa per Poggio a Caiano. La proposta è stata poi lanciata con una lettera inviata al Ministro Franceschini per formalizzare la cogestione. Ma cosa ne pensano i poggesi? Penso che la Villa Medicia di Poggio a Caiano potrebbe essere una risorsa da usare per spettacoli, per manifestazioni e penso che venga sfruttata molto poco e quindi ecco, incentiviamo. Barbara, non so come pensi... Sarebbe giusto anche essere gestita dal Comune di Poggio a Caiano, essendo anche un patrimonio dell'UNESCO, questo non è una cosa che tutti i paesi hanno. È un po', secondo me, il cuore di Poggio, diciamo, perché prima della pandemia veniva parecchia gente, era molto visitata soprattutto dai turisti, quindi lasciarla così è un po' brutto. A me personalmente piace un monte, poi quando mi capita vado, mi faccio un giro perché è bellissimo. Tutti i poggesi che abbiamo intervistato si dispiacciono che alla loro villa non venga data l'importanza e la visibilità che meriterebbe. Penso che sia una villa molto bella, che ha un grande potenziale, nel quale si potrebbe anche magari organizzare qualche evento, con la collaborazione anche di noi commercianti, insomma, ci farebbe anche piacere questo, renderci un pochino più parte anche di quello che abbiamo appunto vicino. La palla passa ora al Ministero della Cultura. E intanto ieri, come già anticipato nei giorni scorsi da TV Prato, il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Pugelli, ha scritto una lettera al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, per ribadire la piena disponibilità dell'amministrazione ad essere direttamente coinvolta dal Ministero nella gestione della villa e dei suoi giardini. La lettera aggiunge dopo alcuni disservizi che nelle settimane scorse hanno visto alcune committive di studenti rimanere fuori dall'edificio perché chiuso nonostante la prenotazione effettuata. L'accessibilità ridotta ai giardini e agli appartamenti monumentali è un freno per lo sviluppo territoriale per i cittadini e i turisti a cui non possiamo non trovare una soluzione, dichiara Pugelli, che già due anni fa aveva scritto al Ministro per il perdurare della chiusura al pubblico della Villa Medicia. E voltiamo adesso pagina a un giornale che parli degli ultimi e che li metta di fronte ai potenti. È la descrizione della nuova edizione fiorentina del Tirreno nelle parole di Mario Neri, il caporedattore che stamani è venuto a parlare per la prima volta della nuova avventura editoriale a Prima di Tutto, la rassegna stampa ragionata di TV Prato. A te che sei il caporedattore non posso che chiedere che tipo di giornali farete? Che cosa leggeremo? Ma ho scritto stamani che freschezza, cioè è quello che vorrei, che vorremmo raccontare tutti i giorni nella città, cioè raccontare una città con qualcosa sempre di originale, uno sguardo originale sulla città. Una cosa a cui tengo è raccontare, perché ci tiene questo giornale, per tradizione, per cultura, naturalmente battaglie sul lavoro, abbiamo pochi punti fermi, ma fra questi c'è l'antifascismo e l'antirazzismo, sarà banale doverlo ripetere, ma anzi forse non lo è mai. Chi vive l'emarginazione è sempre al nostro fianco e davanti ai nostri occhi. Un giornale anche per gli ultimi quindi? Sì, assolutamente. Gli ultimi li leggono i giornali, questo mi viene in mente? Forse no, però non ci interessa perché il compito dei giornali è anche mettere gli ultimi davanti ai potenti, perché si prendano le loro responsabilità e facciano qualcosa per loro. Questa è una cosa importante. E parliamo adesso invece di musica. Sabato 3 settembre, Piazza Duomo si trasforma in una discoteca d'eccezione per ospitare l'evento DJ Time Adventure con i DJ Albertino, Fargetta, Molelle e Prezioso nell'ambito del Festival Settembre Prato e Spettacolo. Dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia, Piazza Duomo tornerà dunque ad accogliere i partecipanti con la capienza completa. La tappa di Prato del Tour sarà l'unica data in Toscana del DJ Time. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita. E ci spostiamo adesso a Vernio, dove domenica 22 maggio torna la festa della polenta dopo due anni di stop a causa della pandemia, con una speciale edizione primaverile. Il programma della giornata seguirà la tradizione con il corteggio e la distribuzione della polenta dolce, ma le iniziative partono già da domani. Dopo due anni di stop, torna la festa della polenta di Vernio in una speciale edizione primaverile che coniuga alla tradizione tante novità. Domenica 22 maggio il corteggio partirà alle ore 10 da Mercatale di Vernio per arrivare in Piazza del Comune. Partecipano i Valletti di Prato e i gruppi storici di Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano e Montemurlo. Alle 12 sarà letta in piazza la storica pergamena, a cui segue la distribuzione della polenta dolce con aringhe e baccalà, in ricordo del nobile gesto della famiglia Bardi, che al tempo dell'invasione spagnola e del sacco di Prato salvò la popolazione verniata dalla fame. Per quanto riguarda poi invece le novità, visto rispettando le norme di sicurezza, il pranzo verrà offerto all'aperto, nella zona della stazione, dove noi abbiamo la sede, diciamo, dove abbiamo magazzino e di tutti i nostri ostumi e lì verrà attrezzato all'aperto con dei tavoli e verrà effettuato il pranzo. Ma le iniziative nell'ambito della rievocazione storica iniziano già dal venerdì sera, il 20 maggio alle 21, quando nel casone dei Bardi sarà presentata la Via delle Rocche e il nuovo sentiero che unisce la Rocca di Montemurlo a quella di Vernio. Il sabato pomeriggio, il 21, ci sarà un laboratorio Costruisci la tua Rocca, appunto per i bambini, animato da Giulio Zeloni, che è un artista del nostro territorio, che appunto si dedicherà alla costruzione di fortificazioni, ecco, con vari materiali, aperte un po' ai bambini dai tre anni in su. Abbiamo voluto fare un'edizione un po' aperta alle famiglie, perché effettivamente c'è tanto bisogno di stare fuori e di creare occasioni per i ragazzi, e quindi il 22, oltre ai tradizionali appuntamenti delle rievocazioni, nel pomeriggio ci saranno anche dei giochi per i bambini, giochi di legno per i bambini, con un'iniziativa che si chiama Gioca alla Piazza. E adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio Lama. Buongiorno e ben trovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lama. Condizioni di alta pressione e tempo stabile, praticamente estivo, questo grazie all'espansione verso nord dell'anticiclone subtropicale, che si espande a tutto il Mediterraneo centro-occidentale, lo farà anche nei prossimi giorni. Infatti, la previsione per il proseguo di oggi, sereno o poco nuvoloso, solo qualche modesta velatura in transito nel pomeriggio, sulle zone settentrionali e addensamenti cumuliformi sui rilievi di nord-ovest, ma con probabilità di pioggia molto, molto bassa. Spenderà il sole sul resto della Toscana, temperature di oggi stazionarie nell'interno, fino a circa 30 gradi centigradi in pianura, in calo in prossimità della fascia costiera. Venti deboli in rotazione ai quadranti meridionali, mari calmi o poco mossi. Per domani non cambierà molto, tempo stabile e soleggiato, solo qualche velatura in transito, sia la mattina che il pomeriggio, poche variazioni dal punto di vista termico, ancora venti deboli e mari calmi o poco mossi. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona giornata. Bene, anche dalla nostra redazione per il momento è tutto, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30 con il Tg della Sera. e intanto tutti gli aggiornamenti sono come sempre sul nostro sito web tvprato.it. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.